Paolo Coppo torna a essere primo cittadino di Ponte, allora un tuo commento a caldo dopo questa vittoria? Il commento è quello che ho già fatto durante un incontro che abbiamo fatto al solito gradiente dove ho detto che se avessi vinto domani mattina alle 8.30 sarei stato il comune. Sarò il sindaco ovviamente di tutti, tutti quelli che non lo danno. Quelli che sono contrari a prescindere cercherò di trovare la medicina giusta e per il resto ci sarà da rimboccarsi le mani e di ripartire per cercare di tirare in questo comune che veramente è andato per il primo passo. Sindaco qual è la prima cosa o le prime cose che farai in questi primi mesi di mandato? Dobbiamo cercare intanto di parlare con i dipendenti e vedere la situazione in cui ci troviamo e poi si riparte. Noi abbiamo un programma ben dettagliato che è già stato fatto da mesi e mesi quindi rispecchi un po' il programma dell'altra volta che era stato bocciato per una manciata di voti e quindi vogliamo riprendere quello così come la vita che si è stata portata da noi. Grazie. Grazie. Grazie.